Elon Musk sarà l'uomo che salverà il mondo o sarà colui che lo manderà in rovina? Bene e benvenuti in questo nuovo video, è in questo nuovo format in cui parleremo di personaggi e di marchi che hanno fatto la storia dell'automobilismo. Iniziamo con Elon Musk, nella prima parte del video farò una breve biografia, nella seconda invece vi darò le mie considerazioni. Elon Musk nasce a Pretoria in Sudafrica nel 1971 e il padre è un ingegnere, la madre è una dietologa e avrà un fratello e una sorella. I genitori si separeranno nel 1980 e lui fino a 19 anni rimarrà insieme al padre in Sudafrica per studiare anche se il suo sogno è quello di andare negli Stati Uniti sia per concludere gli studi, come poi farà, sia per vivere perché pensa che gli Stati Uniti siano sicuramente una terra in cui i sogni possono avverarsi. Come dicevamo la prima parte degli studi, quindi fino a 19 anni, la fa in Sudafrica dopodiché a 19 anni decide di spostarsi da prima due anni in Canada e poi finalmente negli Stati Uniti dove prenderà una laurea in Economia e poi una in Fisica. Inizierà anche un dottorato sempre in Fisica e in Scienza dei Materiali che però non porterà a termine perché nel frattempo decide di mettersi a lavorare, di diventare un imprenditore e di finalmente mettere in atto i sogni che aveva sin da bambino. C'è da dire la prima parte degli studi, quelli che ha fatto in Sudafrica, sono stati anche un po' movimentati nonostante lui avesse fatto vedere di che pasta era già a 12 anni appassionato di codice e aveva scritto il suo primo videogame che poi ha venduto a una rivista specializzata proprio in videogiochi per 500 dollari. Ma la vita sociale non era poi un granché, anzi è stato vittima di bullismo per tanto tempo, addirittura in un'occasione è andato in ospedale perché per gioco lo avevano buttato dalle scale. anche probabilmente questo era anche dovuto alla sua malattia, la sindrome di Asperger da lui stesso dichiarato in un'intervista di soffrire di questa malattia uno spettro dell'autismo e magari anche per questo veniva preso un po' in giro dagli altri. Ma c'è da dire che è sempre stata una persona determinata, una persona brillante ed è riuscita sicuramente a superare anche questo periodo della sua vita, lo abbiamo visto. Oggi è tra i tre uomini più ricchi al mondo, quindi alla faccia dei bulli che giocavano con lui. Comunque andiamo avanti con la biografia. In America dopo un po' di tempo riesce a far arrivare anche suo fratello e insieme fondano la prima loro azienda, la Zip2, è una società che si occupava di creare delle guide cittadine online. Viene acquisita questa società da Compaq e dalla vendita Elon Musk ricava 22 milioni di dollari. Con questi soldi, sempre insieme al fratello, fonderà un'altra azienda, la X.com che era un'azienda che si occupava di pagamenti tramite email e dopo alcune fusioni nasce da questa X.com, nasce Paypal che tutti conosciamo. Anche questa società viene acquistata da un colosso, cioè da Ebay, per 1.5 miliardi di dollari. A questo punto nasce il mito di Elon Musk. Con il ricavato della vendita di Paypal inizia poi l'ascesa personale del personaggio Elon Musk con la creazione di una serie di società che oggi conosciamo tutti ma che all'epoca erano sicuramente una grandissima sfida. La prima è stata SpaceX, cioè una società che si occupa di lanci spaziali, approfondiremo tra un po' questo discorso, anzi di tutte le società di cui Elon Musk è o fondatore, o CEO, o presidente, ma comunque parte attiva e integrante di ognuna delle sue società. Dicevamo SpaceX nel 2002 e nel 2003 arriva a quello che forse l'ha portato più in auge almeno in quel periodo, cioè Tesla, una società che costruisce automobili elettriche. Subito dopo Tesla è il momento di SolarCity, una società che si occupa di energie rinnovabili. Dopodiché arriverà Hyperloop, il progetto di un trasporto ad alta velocità, un trasporto terrestre ad alta velocità, poi ci sarà OpenAI, una società che si occupa di intelligenza artificiale, a sua detta fatta in un modo particolare perché è una società no profit che vuole mettere in campo tutte le conoscenze su questo tipo di tecnologia che secondo lui è la tecnologia del futuro ma che nelle mani di pochi potrebbe anche diventare molto pericolosa. Fonda poi Neuralink, una società che ha l'intento, l'intenzione di collegare il cervello umano ad una intelligenza artificiale proprio tramite delle connessioni neurali. Ci sarà poi The Boring Company, che è una società che costruisce tunnel all'interno dei quali poter viaggiare con mezzi e commerci in modo da eliminare il traffico. Insomma, la sua visione del futuro la mette in campo nelle sue società. Come dicevamo, è un personaggio molto particolare, è un personaggio che sembra voler a tutti i costi creare ciò che magari immaginava da bambino e in molti casi ci sta riuscendo, in molti casi c'è già riuscito. Se pensiamo ai nostri sogni da piccoli, pensavamo di andare nello spazio, lui adesso è la sua società che lo fa, pensavamo di avere delle auto che si guidavano da sole, alla sua società che lo fa, ha la connessione magari con l'intelligenza artificiale per diventare noi ancora più prestanti mentalmente, lui ci sta provando ed è notizia di qualche giorno fa la presentazione di Tesla bot, un robot che dovrebbe in qualche modo semplificarci la vita perché potrebbe fare al posto nostro i lavori più gravosi. Anche di questo nel secondo video parleremo approfonditamente di Tesla, mentre nel terzo video parleremo proprio di Tesla bot e poi capirete perché potrebbe interessarci anche da vicino. Di Elon Musk si è detto tanto, si sa tanto, sicuramente è un personaggio decisamente molto influente e secondo me se da un lato questo è un bene perché comunque le sue intenzioni sembrano essere sempre delle buone intenzioni, cioè grazie alle società tipo SolarCity ma anche Tesla punta a diminuire il nostro impatto sul pianeta Terra, il nostro inquinamento sul pianeta Terra con SpaceX vorrebbe portare una colonia su Marte per avere un piano B nel caso in cui la Terra dovesse diventare invivibile. Con OpenAI vorrebbe proteggere dalla predominanza che avrebbe una qualsiasi società che riuscisse ad avere veramente un'intelligenza artificiale forte e anche se poi dall'altro lato si vedono alcuni atteggiamenti un po' contrari. Penso già alla società Neuralink perché questa è una società che vuole collegare proprio il nostro cervello tramite delle connessioni neurali ad un'intelligenza artificiale ma il fatto è che chi ci sta veramente investendo un sacco di soldi è sicuramente lui con le sue società per questa tecnologia, lo fa sulle auto, lo fa anche sui suoi razzi, lo sta facendo con Neuralink per cui è una tra le persone, anzi probabilmente la persona con più soldi e con più voglia di investire proprio in questa tecnologia. Quindi da una parte dice di voler salvare il mondo, dall'altra intanto si sta adoperando almeno sulla carta per questo ma lo sta facendo lui personalmente con i suoi soldi, con le sue società e dimostrando di non essere proprio molto aperto al mondo in generale. se avete notato negli ultimi anni, se da prima le collaborazioni che aveva con tante società per poter costruire i suoi razzi, per poter costruire le sue auto erano tantissime, pian piano nel tempo invece ha sempre di più accentrato all'interno delle sue aziende ogni parte del processo, a partire dalla ingegnerizzazione naturalmente, dalla progettazione e ingegnerizzazione ma anche dalla produzione, addirittura oggi si produce fino a piccoli bulloncini per costruire i suoi razzi, per costruire le sue auto, quindi la sua tecnologia tende pian piano ad essere sempre più accentrata e accentrata su di lui perché l'ultima parola sulla maggior parte dei progetti spetta sempre a lui, ha la mente per farlo, ha le capacità per farlo ma è sempre una unica persona che sta lavorando in maniera decisamente accentatrice. Per quanto riguarda il discorso di SpaceX, l'influenza che ha questa società e che avrà questa società in futuro sarà enorme perché è la prima società privata che riesce a mandare con successo tantissimi razzi nello spazio per trasportare merci e persone sia di terze parti sia sue, per esempio sta mandando nell'orbita terrestre centinaia e centinaia di satelliti che dovrebbero riuscire a portare la rete ad alta velocità in tutto il globo anche nei posti dove sarebbe impossibile arrivare per esempio con la fibra, però la questione è che questi satelliti, questa costellazione di satelliti che abbiamo intorno al nostro pianeta, sì, è dedicata a quello scopo ma è sempre nelle mani di un'unica persona, così come la voglia di arrivare su Marte e di colonizzarlo, sì, l'intento è sicuramente molto importante, cioè quello di avere un piano B nel caso in cui la Terra non dovesse riuscire più ad ospitare la popolazione umana ma dall'altro canto sarà sicuramente tra i primi ad arrivare lì e a colonizzare un altro pianeta. Ha una influenza enorme sul mercato, dice, dà sempre delle sue considerazioni, ogni tanto la spara grossa e ogni tanto dice la sua in determinati campi e l'economia si muove di conseguenza. L'abbiamo visto qualche tempo fa con Bitcoin, una sua dichiarazione ha fatti salire alle stelle, poi ha cambiato idea e sono subito crollati, insomma quando dice qualcosa il mondo lo sta a sentire. Per quanto riguarda la mobilità elettrica lo approfondiremo poi nel prossimo video, però è stato sicuramente tra i primi e oggi è la prima società a riuscire a investire e a costruire auto elettriche che hanno un senso, legate anche queste molto alla tecnologia dell'intelligenza artificiale e stranamente gli stati hanno iniziato a muoversi nel senso della mobilità elettrica in maniera molto pressante, magari non c'entra nulla, però intanto è sicuramente l'esponente di questa categoria più in alto e più visibile, più potente al mondo. Ha una visibilità enorme, ha un seguito enorme, a me piace molto come personaggio, come persona, mi piace molto come imprenditore, però da un altro lato mi fa un po' paura perché ha tanta potenza, sia in termini economici, sia in termini mediatici, sia come personaggio e quindi può in tanti modi, in qualche modo comunque condizionare la nostra vita, può condizionare l'economia e con i progetti che ha potrebbe anche condizionarci in maniera un po' più specifica. Io spero di no, magari spero di sbagliare in questo senso, magari salverà davvero il mondo e l'umanità con le sue idee, però starci un po' attenti non è certo un male. Abbiamo visto che ogni tanto fa delle strane dichiarazioni, anche delle azioni un po' particolari, l'abbiamo visto con il Covid-19, in cui si è un po' rifiutato di credere che fosse tutto vero, si è rifiutato di fermare la produzione delle sue auto quando gli Stati Uniti avevano comunque bloccato tutto, ha voluto comunque riaprire, sono successi anche tanti casi di coronavirus all'interno delle sue aziende dopo che ha aperto, le sue dichiarazioni sono state un po' controverse, alcune volte le ha confermate, alcune volte sono state poi magari cancellate anche dalla rete. Ha una sua idea anche sulla scolarizzazione, di fatti i suoi figli non vanno nelle scuole private, ma ha fatto una sua scuola perché crede che i metodi di insegnamenti che ci sono oggi non sono validi, non siano validi, ne ha fatta una non solo per i suoi figli ma anche per alcuni eletti che possono sperare di entrare all'interno di questa sua scuola. Quindi è un personaggio che ha un'influenza enorme, è un personaggio che ha le possibilità economiche di mettere in atto ciò che sogna e speriamo che i suoi sogni siano tutti positivi e magari che un giorno non gli venga in mente di voler sterminare l'umanità. Dai, a parte tutto, sto scherzando, però effettivamente starci un po' attenti secondo me è anche giusto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che anche questo format vi piaccia, questo è il primo video. Negli altri due video, sempre dedicati a Elon Musk, quindi mercoledì prossimo parleremo di Tesla, l'altro ancora parleremo di Tesla Bot e nel terzo capirete perché parleremo di questo suo nuovo prodotto che addirittura aveva detto di voler lanciare nel termine di un anno. Sappiamo che ogni tanto la spalla grossa, probabilmente non sarà così, però ripeto, approfondiremo questo tra due mercoledì. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se vi piace il mio canale iscrivetevi e se vi va seguitemi anche sui social. Io penso di non dover aggiungere nient'altro, quindi ci vediamo al prossimo video e con le storie ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao ciao!